Le importazioni di carciofi provenienti da Egitto, Marocco e Tunisia nei porti di Brindisi, Genova, Gioia Tauro e Manfredonia inquinano il mercato immettendo prodotto di scarsa qualità a prezzi stracciati. Il rischio, secondo il presidente di Coldiretti Brindisi, Salvatore Ripa, che ha aperto i lavori del convegno sul carciofo brindisino, è che gli imprenditori agricoli del territorio decidano di non raccogliere più, ritenendo poco remunerativa l'attività cinericola. Di qui la necessità per Ripa di rilanciare e promuovere il comparto, partendo proprio dal marchio comunitario cinerino utile ad identificare il carciofo di Brindisi. Il percorso, aggiunto il direttore della Coldiretti Puglia Antonio De Concilio, non è assolutamente concluso, ora bisognerà creare il consorzio di tutela, accelerare la costituzione dell'organizzazione dei produttori e dare vita all'albo dei produttori stessi. La Puglia è la maggiore produttrice italiana di carciofi, con 160.000 tonnellate che rappresentano il 94% della produzione del mezzogiorno e il 30% di quella nazionale.